Ma che è questa saturazione? Che vuoi? Aromoli, spiegare te e te, andava. Ora ve lo spiego che vuoi, Baronet. Voi sapete anche il piegatore che fa? Alza la potenza d'ingresso. Quindi in uscita ci avremo una potenza maggiore di quella d'entrata. Se poi il rapporto tra questa potenza in uscita e questa potenza d'ingresso lo chiamiamo guadagno, una parola che ci piace tanto... Allora, se noi sulle ascisse ci disegniamo questa potenza d'ingresso e se lo ordinate questo benedetto guadagno, avremo una dipendenza allineare questo guadagno da questa potenza d'ingresso. Quindi questo che vuol dire? Che se la potenza d'ingresso raddoppia, pure la potenza in uscita raddoppia. Questo però è valido fino a quando la potenza d'ingresso raggiunge un certo valore detto di saturazione, dopo il quale il guadagno comincia a essere minore. E quindi qua si dice appunto che l'amplificatore è andato in saturazione. I baronese ci siamo spiegati, sono stato chiaro? Mi fa piacere. Vabbè. Noi se volevamo bene e se dobbiamo sempre aiutà, perché se poi non è così, ossucì come si dice qui, poi dopo pure le palle mie vanno in saturazione. E lì il guadagno ci diminuisce. Assoluto. Assoluto. Assoluto.